Musica e quindi sono qui e noi abbiamo il dovere di festeggiare perché quando torneranno nella loro terra e ormai la loro terra l'America, l'Argentina l'America e ormai la loro terra e di conseguenza porteranno sicuramente porteranno una buon ricordo di queste serate che hanno trascosto intorno al nord devo darvi una notizia vabbè la notizia che abbiamo la favorevole presenza del sindaco di Sortino il dottor Paolo Di Lourde abbiamo in ombre la presenza del presidente del centro di londanziani Enzo Magnano che ti prego di avvicinarti abbiamo anche la presenza del notario Fabio Nio che io lo prego di venire anche se ne è un altro avevo il partito e tutto un altro che siete i protagonisti di questa serata se non ci fossero state voi sicuramente questa serata non l'avremmo potuto fare perché eravamo c'erano solo due che venivano da mento ed erano guarda caso il signor Vito De Luca e il signor Penzo Piari gli altri sono arrivati così man mano piano piano fino a che è uscita una bellissima serata e questa serata noi la riteniamo a tutti i sordinesi del mondo guardate tutti quelli che sono andati in Australia sicuramente forse saranno stati più coraggiosi di noi perché avete affrontato una società che per la verità è stato ostile non lo credo avete avuto dei problemi dei grossi problemi che avete superato avete comprito la vostra casa avete fatto le vostre famiglie diciamo che avete insediato nel territorio nello stato dove siete stati ospitati in maniera eccellente e siete l'orgoglio l'orgoglio non ritrovo a questo punto io non vorrei essere perché poi parlerò ancora siccome faccio lo spiegher in questa occasione perché guarda caso conosco quasi a tutti conosco a Beppa per esempio che veniva della Cendina prima venivo ogni due anni ora viene ogni anno tra qualche anno verrà o in sei mesi allora io do la parola al padrone di casa che è il presidente del circolo il signor Brini Piaccio dove lo prego grazie buonasera buonasera e vi ringrazio di essere qui e partecipi della nostra serata che come ogni anno cerchiamo di fare nel nostro libro ringrazio tutti gli intervenuti per quanto riguarda i nostri connazionali dall'Argentina dall'Australia dall'America dalla Francia Germania dall'Alto Italia per il signor Salone dalla bassa Sicilia siamo tutti qua almeno per renderci un po' utili cerchiamo di stare un po' insieme ringrazio il signor Silvio che è venuto a trovarci nel nostro locale e ringrazio tutti voi soprattutto anche la banda che ci ha dato questi onori di avere questa banda musicale grazie grazie e allora Grazie a tutti.